Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. La Giunta regionale durante l'ultima seduta ha approvato il bando per la misura 112 del programma di sviluppo rurale destinata all'insediamento dei giovani agricoltori. A questa misura sono stati dedicati inizialmente 2 milioni di euro ma è previsto di incrementare le risorse con l'uso delle economie che progressivamente matureranno sui bandi delle alte misure. I missionari dell'Arcidiocesi di Pescara Penne che si trovano in questo momento nella Diocesi di Sape in Albania stamattina hanno presenziato al ritiro mensile del clero diocesano di Pescara Penne che si è svolto all'Oasi dello Spirito di Montesilvano Colli. I missionari hanno riferito della differenza culturale che c'è fra la nostra terra e quella d'Almania e raccontato di come il regime comunista abbia completamente allontanato dalla pratica religiosa una certa fascia d'età che oggi corrisponde a quella dei 40-50 anni dicendo però anche di una terra sostanzialmente buona dal punto di vista della ricezione del messaggio evangelico dove i missionari della nostra Arcidiocesi di Pescara Penne che hanno chiesto ai membri del clero diocesano di sentire quella terra, quella parrocchia come una delle parrocchie della nostra Arcidiocesi sono rispettati e benvoluti proprio per quello che stanno facendo, per la missione che stanno portando avanti. L'Arcivescovo di Pescara Penne, Su Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti ha anche precisato che le offerte nella quaresima di fraternità che stiamo vivendo saranno proprio destinate all'Arcidiocesi di Pescara Penne che proprio domenica 6 aprile alle ore 18.30 presso l'abbazia di San Clemente a Casauria in Castiglione a Casauria vivrà un momento di festa perché sarà ordinato diacono Luigi che farà questo rito Luigi Marrone per la celebrazione che sarà presieduta da Su Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne e quindi appunto Luigi Marrone sarà ordinato diacono mediante l'imposizione delle mani e la preghiera d'ordinazione proprio di Monsignor Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne. Pur non riuscendo ad immaginare quali violazioni di legge giustificherebbero un ricorso al Tarra mi permetto di segnalare ai diretti interessati che i precedenti rinvenuti sono a loro sfavore. Così Carlo Costantini, presidente del Comitato Promotore per il Sial Referendum del 25 maggio sulla nuova Pescara commenta l'intenzione del sindaco dispoltore di impegnare, di impugnare il referendum davanti alla Corte Costituzionale. Dunque, prosegue Costantini, risparmino i soldi del ricorso? o se intendono davvero servire la loro comunità, utilizzino le risorse risparmiate per informarla sull'importanza di questo appuntamento. Scarichi fognari direttamente sui prati, gare di fuoristrada su neve con totale azzeramento della vegetazione è trasformata in una distesa di fanghiglia, ruspe, camion e pietrisco del cantiere della Galleria Anas di Serralunga su vegetazioni rarissime che teoricamente sarebbero tutelate a livello europeo. Se questo è un parco è il titolo della fotogallerie che otto associazioni ambientaliste tra cui Lipu e stazione ornitologica abruzzese Onlus hanno raccolto, parlando di Far West che ha letteralmente sconvolto una delle aree più protette, almeno sulla carta dell'Appennino. L'assessore abruzzese alle pari opportunità Federica Carpineta nella settimana di azione contro il razzismo presenterà giovedì il primo centro territoriale della regione Abruzzo contro la discriminazione finanziato nell'ambito del progetto Centra, programma FEI, Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi di cui la regione è capofila. Nell'occasione saranno premiati i vincitori del concorso fotografico più differenze e meno diffidenze rivolto agli appassionati e professionisti di fotografia che hanno colto i tratti e le immagini di forme del rispetto reciproco del valore delle diversità e del dialogo interculturale. Il rinforzo degli argini del torrente Piomba per garantire la sicurezza dell'abitato di Marina è l'obiettivo dei lavori attualmente in corso con la sezione di Teramo del Genio Civile Regionale appaltati dal Comune di Città Sant'Angelo. Siamo particolarmente attenti, ricorda il Sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi, a prevenire e scongiurare situazioni di pericolo con interventi di questo genere. Le calamità vanno evitate. Il turismo di qualità e la valorizzazione delle realtà dell'area adriatica poco conosciuta per accrescere il valore dell'offerta turistica si apre con l'obiettivo di approfondire questi temi la prima conferenza internazionale del turismo di qualità in programma giovedì dalle ore 9.30 presso il Museo delle Genti Auditorium Petruzzi di Pescara. La conferenza è organizzata dall'assessorato al turismo nell'ambito del progetto comunitario transfrontaliero IPA adriatico Adristorical Land. Nei prossimi giorni mi dimetterò dal Consiglio Comunale di Pescara dopo esserci stato per oltre 19 anni consecutivi. Lo annuncia su Facebook il consigliere comunale Carlo Masci di Pescara Futura che è anche assessore regionale al bilancio e punterebbe a diventare anche il sindaco di Pescara secondo alcune previsioni. Mi dimetterò a scritto nella notte sulla sua bacheca perché non voglio rimanere un minuto di più insieme ai transfughi e ai volta gabbana agli approfittatori dell'ultima ora che dopo aver ottenuto vantaggi di incarichi professionali di ogni tipo da una parte politica si trasferiscono nell'altro schieramento per gli stessi identici obiettivi. Vertici rinnovati al Sea River di Pescara nel corso dell'Assemblea Soci di uno dei club più storici della città svoltasi domenica 16 marzo Aldo Di Cosmo è stato eletto all'unanimità nuovo presidente. Di Cosmo ha espresso soddisfazione per l'incarico che lo vedrà sino al 2016 alla guida del club che riunisce imprenditori e professionisti del capoluogo adriatico. Di Cosmo ha dichiarato il mio impegno primario sarà cercare di ridare un rinnovato impulso ai club tentando di incrementare il numero dei nuovi soci e incentivare gli iscritti a partecipare più attivamente. Venerdì 21 marzo alle 17.30 presso la sala consigliare del comune di Pescara si terrà l'incontro dibattito Abruzzo, Randagismo e la nuova regge regionale A partire dall'analisi del fenomeno Randagismo il convegno si propone di aprire la strada alla corretta applicazione della nuova legge del dicembre 2013 e alla sua implementazione L'evento è organizzato da Lega Nazionale per la Difesa del Cane LAV ed EMPA ed è patrocinato dal comune di Pescara Siamo alle previsioni del tempo stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 13 a 14 gradi e mezzo e venti deboli domani si prevedono cielo coperto al mattino sereno in tarda mattinata poco nuvoloso nelle ore centrali e nubi sparse nel pomeriggio ed in serata con temperature da 9 a 19 gradi e venti deboli il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio alla microfono Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87 e 6 MHz è su www.radiosperanzapescara.it grazie per essere stati con noi e a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti i nostri spettatori